sono stato un po lì mi sono aggrappato lì a un salvagente ma era troppo carico a bordo non mi hanno preso su, mi hanno tirato su e allora mi sono visto una nave distante non so un cento metri forse più che meno che era il mitragliere che lui ci ha messo proprio nella corrente attraverso nella corrente perché nella gufa d'allenale c'è corrente ci ha messo proprio attraverso e di infatti mi sono messo a un voto poco tempo sono arrivato sotto a coperta mi hanno preso a bordo e sono stato lì fino verso che non siamo partiti che hanno recuperato tutti i superstiti quanti che siamo partiti però anche durante la notte quando siamo andati verso la spagna verso minorca si buttavano i bengali perché apparecchi ci seguivano a vedere proprio ero credo che erano inglesi per vedere che strada si fanno dove si andavano un po di paura anche lì vedete qua c'è un bordo un'altra volta lì qua notte buio e verso invece verso le sette così sette e mezzo così siamo arrivati a minorca mesi fuori di testa perché dico la verità quello che abbiamo passato lo so io lo sapevano anche tutti gli altri grazie a tutti